Così un fattore al momento, no c'è? Sì, eh Giacomella ha voluto sparare per primo, doppio errore di Giacomella Giovannino, 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 Giovannino Fantastico, Giacomella adesso deve lavorare bene con le ricariche perché spagna il mondo Ah no, ahiaia, ma potrà andarsene via la medaglia Il Comatz regala all'Austria la medaglia Cosa fa? Sbaglia Piazzola Samuelson L'importante è questo, perciò com'è, se prende questo può essere ancora medaglia No, no, disastro Adesso Samuelson ci può provare Ma ma apre mai anche lui Aveva sbagliato Piazzola, era andata in quella di Ganespo Disastro anche per Samuelson L'Italia la porta ancora a casa perché Samuelson è sbaglia il muro Comunque per la Francia è dura, eh Anche perché sbaglia anche Faggenblot Due volte, l'Italia è medaglia? Sì, sì, è medaglia di bambini In qualche modo è medaglia di bambini È andata bene, sì Grazie a tutti